55 gradini decorati con mattonelle di ceramica realizzate da 22 ceramisti. Per ogni gradino una storia, per un'arte quella ceramica che nel quartiere a Grottaglia è il cuore pulsante di tradizione, innovazione e generazioni che si susseguono. Siamo tutti belli qui, vedi, riuniti, vuol dire che non c'è concorrenza, che abbiamo condensato tutte le forze per fare una cosa, secondo il mio punto di vista, molto raffinata. E poi c'è questa coesione bellissima, tutti i giovani, ho visto, mi sono preoccupato perché sono il più anziano. Forse sarà una cosa d'orgoglio, ma vedo che i giovani stanno molto forti. C'è questa scalinata, sta avendo molto successo perché come arrivano i turisti, la prima cosa che fanno, si fanno la foto. Venitela a vedere perché è una cosa spontanea, raffinata, molto elegante. Il progetto di promozione e valorizzazione corale tra amministrazione, ceramisti e privati. Le mattonelle sono state infatti fornite gratuitamente dall'imprenditore Giuseppe Quaranta. Rende così il quartiere delle ceramiche ancora più suggestivo e caratteristico. Sicuramente piacevole per i turisti che potranno godere della sua bellezza, di tutte le forme, di tutti i colori che i nostri artisti ceramisti hanno potuto esprimere in essa. E sarà anche per i ragazzi, per i giovani, un punto, come si dice, su Instagram, per creare anche un movimento di passaparola attraverso i social media. Ed è già selfie time perché nell'epoca dello scattare e pubblicare la promozione è istantanea. Grazie. Grazie.